Ieri sede in Piazza della Repubblica il candidato sindaco della lista, la città di Assele, Donato Santimone, ha svolto il comizio di apertura della campagna elettorale. Il suo slogan è, hai l'opportunità di costruire una nuova città, coglila. Prima di tutto grazie a tutti quelli che c'erano, sono andati oltre le nostre previsioni, questa campagna elettorale anomala, di corsa, con i segni per terra, la gente che ha paura. Mia madre non è venuta, penso solo questo. Però, beh, dai, l'ho detto stasera, stasera comincia la fine di Cariello, ma la comincia la fine politica di Cariello, dipendentemente dalle elezioni. Quali sono, diciamo, i punti nevralgici? Nel nostro programma? Beh, la prima cosa è il lavoro, Rosaria, ne parlamo tanti mesi fa. Stasera ho spiegato anche un po' di cose. Io, per esempio, il 22 settembre chiamerò i bresciani, i bergamaschi, i mantovani. Non dobbiamo più consumare il suolo, anzi, dobbiamo proteggerlo, perché serve a voi e serve alla nostra collettività. Sul terreno agricolo, sul terreno industriale, iniziative promozionali per attrarre nuovi investimenti. Che cosa recrimini all'attuale sindaco? L'assenza di disegno, non ne ha divisione, vive solo sul giorno per giorno. Hai fatto riferimento anche all'aspetto dei carichi pendenti, della giustizia, è un argomento sul quale state puntando molto? No, io credo che in una società democratica chi chiede ai cittadini di esprimersi debba fornire agli stessi tutti gli elementi. Il casellario giudiziale rappresenta soltanto quello che è già avvenuto. I carichi pendenti invece ci indicano quello che è in corso, sono e resto garantista. Un conto è l'abuso d'ufficio, un conto è la corruzione. Io penso, se fossi sindaco, direi ai miei cittadini, questo è il mio stato dell'arte. Preferisco fermarmi un giro, sistemare le mie cose e poi sarò di nuovo a disposizione della collettività. Grazie.